Sono Margherita Coccoli, psicologa. Sto terminando la mia formazione di psicoterapeuta presso l'Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica di Roma. Ho partecipato nel giugno 2017 al corso tenuto da Alfredo Canevaro sul tema dell'inclusione delle famiglie di origine nelle terapie individuali di coppie e familiari. Ho trovato il conduttore una persona molto attenta e soprattutto traspariva dalle sue parole una grande passione per il suo lavoro che ha trasmesso a tutti. Le tecniche di intervento che ci ha proposto sono molto valide, intuitive e soprattutto applicabili al lavoro clinico.